versante diciamo inedito almeno il primo pezzettino forestale ragazzi eccoci ragazzi per questo nuovo video oggi passo croce domini in compagnia sempre del filato Diego che è davanti col suo KTM 990 versante diciamo inedito almeno il primo pezzettino 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 d'il primo pezzettino il primo pezzettino sullenare Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok adesso partiamo ragazzi con lo sterrato Questa ragazzi devo togliere il traction Che spettacolo Molto sassoso Lo sanno Il pezzo un po' più cattivo all'inizio Vai che spettacolo ragazzi Non me lo ricordavo così malvaso come strada Sono proprio i canaloni Ok Che spettacolo Forestale ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Eccoci ci siamo alla fine dello sterrato quasi Poi ci sarà un altro pezzettino proprio piccolo Pazzo ragazzi Una delle strade più belle Della Lombardia a livello paesaggistico Assolutamente è assolutamente da fare Che spettacolo che spettacolo Che spettacolo ragazzi Ex basenato ormai Ex basenato ormai Si è spenta la moto Che spettacolo ragazzi Che spettacolo ragazzi Che spettacolo ragazzi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.